28 marzo ci troviamo a Como per un nuovo workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editore. Oltre 250 professionisti hanno partecipato a questa giornata di formazione dal titolo Il futuro dell'edilizia. Progettare e riqualificare l'edificio in pianto in chiave sostenibile. Tanti temi che abbiamo trattato anche con i tanti protagonisti della giornata, tante le aziende che hanno presentato i prodotti più innovativi oggi presenti sul mercato. Allora vediamo il servizio che abbiamo realizzato. Si tratta di un progetto secondo me interessante perché pone l'accento sulla progettazione delle periferie e delle nuove città. Vale a dire che se il suolo nelle città diventa sempre più caro e allora dobbiamo costruire fuori, tanto vale costruire in maniera tale che il fatto di stare fuori la città non sia uno svantaggio ma un vantaggio in termini di qualità di vita, di qualità dell'area, di ciò che ci sta intorno e di servizi interni al nuovo costruito. Quello che dovrebbe essere secondo noi la visione dell'edilizia del futuro. Si tratta di un resort park, vale a dire di un parco che sorge intorno a un complesso residenziale nuovo che vive tutto l'anno di attività sportive, di fitness e di relax.